ciao bambini ma lo sapete che una volta i merli non erano neri come li conosciamo noi oggi erano tutti bianchi candidi come la neve bianchi come il latte un anno però ci fu un inverno freddissimo c'era gelo ovunque continuava a nevicare era la fine di gennaio e una famigliola di merli non sapeva più come ripararsi dal freddo decise così di mettersi vicino a un camino fumante vedete qua si che si sta al calduccio mettiamoci qui e il freddo non ci coglierà i preparati rimasero in questo cammino per tre giorni gli ultimi giorni del mese di gennaio e quando uscirono che sorpresa si ritrovarono tutti i merli da quel giorno gli ultimi tre giorni del mese di gennaio vengono chiamati i giorni della merla